Buongiorno a voi amici dei Furri, è giovedì e come tutti i giovedì è arrivato il momento di parlare degli spoiler del capitolo 1006. In questo momento praticamente è uscito l'intero capitolo in giapponese, a parte alcuni balloon tagliati. Abbiamo il riassunto dell'intero capitolo, abbiamo le RAW dell'intero capitolo e abbiamo anche alcune pagine fatte meglio e alcune pagine con dei balloon completamente tagliati. Ma non è questo il momento di parlare di problemi tecnici. Iniziamo parlando del capitolo. Capitolo 1006, la cover non è una cover a richiesta, non è una mini avventura, ma è una color spread. In questo capitolo la color spread è completamente monopolizzata dai leader della ciurma dei pirati di Kaido. Quindi abbiamo Kaido in posizione centrale in alto, che svetta sugli altri. Davanti a lui, leggermente più piccoli diciamo, abbiamo Jack, King e Queen in base alla loro posizione da sinistra a destra. Poi, sui quattro angoli, abbiamo Isai Tobi Roppo. Abbiamo in alto a sinistra Usu, abbiamo in alto a destra Black Maria, in basso a sinistra abbiamo Ulti e Page One, mentre in basso a destra abbiamo Sasaki e DS Drake. Detto questo, direi che è arrivato il momento di passare direttamente al riassunto del capitolo. Il capitolo si chiama Yogoro dei fiori, il Kyokaku. Il Kyokaku è praticamente il titolo, diciamo quasi cavalleresco, indica cavaliere, con cui si chiamano tra di loro i leader della Yakuza, gli uomini d'onore della Yakuza giapponese. Quindi, in questo caso, sapendo che Hyogoro non era altro che il leader, il vecchio leader, il precedente leader degli Yakuza del paese di Wano, ecco spiegato il titolo di Kyokaku. Detto questo, il capitolo inizia praticamente in una situazione diversa rispetto a quella in cui era finito il capitolo scorso. Se vi ricordate bene, il capitolo scorso si era concluso con Brook e Robin pronti ad affrontare Black Maria. Questo capitolo comincia con Bao Juan. Bao Juan che si rende conto di dove si trovi il gruppo di Yamato. E quindi, tramite i Marys, dà comunicazione a tutto il castello della posizione di Yamato. Sappiamo benissimo che Yamato è uno dei personaggi che è inseguito dai Pirati delle Cento Bestie. Quindi viene data comunicazione di andarlo o andarla a catturare. Sanji, venendo a scoprire questa informazione, è colto da un dubbio. È colto dal dubbio se andare verso la sala posteriore, la sala dei tesori posteriore, dove si trovano Kinemon e gli altri, oppure se andare all'ingresso del Dome, quindi in una parte completamente diversa e soprattutto fuori, completamente fuori dalla battaglia, per andare a proteggere Yamato, ma soprattutto Monosuke. E prende una decisione, ma al momento non ci viene fatto sapere che decisione sia. Quindi noi sappiamo che lui si decide, ma non sappiamo quale sia la sua decisione. Detto questo, abbiamo un cambio di scena. Vediamo Onigashima che sta fluttuando al di sopra di Wano. Quindi abbiamo già superato lo stretto braccio di mare. E ci troviamo già sulla terraferma. E vediamo sullo sfondo il monte Fuji di Wano. Quindi quella montagna che sembra il Fuji, ma è super allungata. E vediamo l'intera isola ricoperta da nuvole. Questo a cosa serve? Questo fa sì che i vari Mink non siano più in forma Sulong. Ma quali sono i Mink che al momento stanno ancora combattendo? Gli unici due Mink al momento che stanno ancora combattendo all'aperto sono Carrot e Wanda. E infatti vediamo Perospero seduto sopra una roccia con praticamente Wanda e Carrot completamente a terra, svenute, sanguinanti e con, tra le varie macerie, una lunga serie di lance e lame fatte di caramello. Anzi, di caramella. Quindi, come è chiaro, essendo scomparso la luna piena, essendo velata la luna piena, loro due non sono più un nemico in grado di impensierire Perospero, come avevo immaginato. E infatti, Perospero diciamo che le prende in giro, le deride, prendendo praticamente in giro anche quello che era il loro obiettivo di vendicare Pedro. Deride proprio questa loro volontà. E poi si prende praticamente le proprie armi, le butta lì a terra, prende le proprie armi, o meglio il suo bastone di caramella, e va verso il dome. Quindi va verso il vero luogo dello scontro. A quel punto abbiamo un ennesimo cambio di scena. E vediamo i samurai, e vediamo quello che è lo scontro al piano terra del dome. Quindi nella zona dell'area Concerti. Vediamo i samurai e i pirati delle cento bestie, che combattono tra di loro, con entrambi i team, entrambi le armate, che stanno subendo perdite, soprattutto grazie al Corioni. Li vediamo mezzi trasformati. E praticamente a quel punto vediamo Apu, che è tornato in piedi, come abbiamo visto la settimana scorsa, che avanza per andare a prendersi gli antivirali, per andare a prendersi quello che sono gli anticorpi necessari ad annientare il virus Corioni. Ma davanti allo stabile in cui Chopper sta mettendo a punto i vari anticorpi, vediamo Hyogoro dei Fiori, e vediamo DS Drake in forma mista. Hyogoro è praticamente, come avevamo detto nella scorsa Fatal 4, è praticamente in una forma di piena potenza, diciamo in una sorta di... Sì, è come il Maestro Mutant, che quando lanciava le prime Kamehameha, praticamente diventava tutto muscoli, enorme tutto muscoli. Eccolo qua, lo vediamo tornare a quella che era la sua piena potenza, quindi non è più un nonnetto di piccole dimensioni, ma è un signore anziano di grosse, veramente grosse dimensioni. E questi sono pronti, veramente pronti ad affrontarsi, e i primi che attaccano Hyogoro sono l'armata di Fukuroko-Ju, quindi sono gli Oniwa Banshu. Praticamente a quel punto abbiamo Hyogoro, che è mezzo infettato dal virus, decide di utilizzare quella che è una delle sue tecniche più importanti. È una tecnica a una spada, e il suo nome è Tobatsu Kohai. Adesso devo ancora vedere i kanji di preciso, visto solo il nome. E lo stile di spada è stile ad una spada dei fiori. L'immagine del suo attacco è praticamente un'enorme serie di petali di fuoco. Sembra praticamente un'enorme serie di petali di fuoco. A quel punto, mentre sta attaccando, mentre sta attaccando tutti i suoi avversari, Hyogoro inizia praticamente a provare rimorso per quello che ha fatto nel passato. Cioè, per il fatto che vent'anni prima non si era voluto, non aveva potuto unirsi alle armate, a Oden, per affrontare Kaido. Portando poi quindi alla disfatta di Wano stessa e di Oden stesso. Ma, ora, avendo la possibilità di aiutare Kinemon e gli altri, ma soprattutto, avendo la possibilità, avendo avuto la possibilità di trasmettere le proprie conoscenze a Rufi, praticamente si sente molto più sereno, molto più tranquillo, e dice che in questo momento lui può tranquillamente morire senza avere rimpianti. In questo momento, dopo che Hyogoro ha praticamente detto quelle che sembrano le sue ultime preghiere, le sue ultime volontà, vediamo Queen, che decide dall'alto, davvero bastardo, di attaccare di attaccare Hyogoro, che si trova praticamente al centro di una fitta serie di persone sanguinanti a terra, quindi si è visto il suo attacco che danno ha portato, e prepara praticamente una sorta di raggio dalla bocca. Ma questo raggio viene deviato da un attacco e da un attacco di fuoco, e quell'attacco di fuoco è un attacco di Marco. Quindi Marco in questo momento sta affrontando contemporaneamente i due top leader della ciurma di Kylo. Contemporaneamente sta affrontando King e sta affrontando Queen. Queen praticamente l'ha affrontato deviando il suo attacco e schivando ogni tipo di attacco che il dinosaurone gli spara addosso, perché praticamente gli sta sparando dalla bocca dei gran laseroni. Mentre King lo attacca con un fendente di spada e gli trancia un'ala. Ovviamente sappiamo tutti abbiamo a che fare con un avversario che usa i poteri del frutto del diavolo, quindi cosa importantissima attacchiamolo ma attacchiamolo senza colpirlo con l'achi dell'armatura perché la tonalità degli armamenti non serve assolutamente a una favalessa contro un fruttato e contro un simil roghia visto che comunque il potere del frutto di Marco è il potere di un di uno zozo ma con abilità simili a quelle dei roghia. Non attacchiamolo per colpire il vero corpo, non usiamo l'achi no infatti gli taglia via un'ala ma l'ala si ritrasforma in fiamma e ritorna praticamente verso e ritorna verso Marco e Marco ovviamente a questo attacco cosa fa? Risponde risponde creando una fiammata blu che spara verso King pendolo in pieno e lanciandolo dentro al tetto del castello giunto a questo punto noi vediamo Queen stesso che va praticamente a va verso Marco va cercando di capire dove si trovi Marco e Marco gli risponde ovviamente tirandogli un calcione e tirandogli praticamente un calcione al fianco e rispedendolo dentro alla torre in questo momento noi vediamo per ospero che vede da lontano questo scontro capendo praticamente che Marco in un certo qual modo anche se sta combattendo a piena potenza potrebbe avere qualche difficoltà perché si ritrova poi contro due pirati di altissimo livello di altissima potenzialità e infatti lo vediamo anche decisamente stanco a questo punto torniamo in quella che è il punto principale del capitolo quindi torniamo nella zona in cui si trova Hyogoro dei fiori Hyogoro lo vediamo seduto a terra con la spada piantata sul pavimento di fianco a lui seduto completamente distrutto ma più che distrutto c'è distrutto dalla stanchezza e il ghiaccio del virus sta praticamente prendendo il suo corpo e lui si sta trasformando proprio in un oni e alle sue spalle uno dei suoi sottoposti principali che si sta preparando a decapitarlo per dargli quella che è una fine onorevole qua si chiude il capitolo e direi che sia abbastanza chiaro ciò che potrebbe accadere nel capitolo successivo quindi nel 1700 io sono sicuro ma anche il re è sicuro di questo che il prossimo capitolo sarà incentrato su Chopper e sul praticamente sul suo studio degli anticorpi e credo che si chiuderà con Chopper che inocula la cura al buon vecchio chiogoro dei fiori iniziando quello che è il ribaltamento della situazione così come mi aspetto che per Ospero entri in campo nello scontro tra Marco e i due top leader riequilibrando lo scontro e praticamente togliendo togliendo all'alleanza all'alleanza tra Kaido e Big Mom potere perché dato che la sua volontà è quella di eliminare completamente l'alleanza preservando la propria madre togliere potere all'altro alleato è la cosa migliore per poi far decidere a Big Mom di levarsi da una come posso dire da un'alleanza scomoda e indebolita detto questo vi saluto e vi invito ovviamente a mettere like a questo video se vi è piaciuto a mettere dislike se non vi è piaciuto a seguirci ad attivare la campanella e a seguirci sui nostri social qua di fianco quindi Facebook Instagram e su Twitch detto questo ragazzi ciao a tutti e arriva chi